Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Massimiliano Ultimo e vi auguro buona visione! Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Massimiliano Ultimo e spero che... Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Massimiliano Ultimo, spero che i contenuti del mio canale vi possano interessare e quindi buona visione! Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, spero che i contenuti del mio canale vi risultino... Vi risultino... Grazie a tutti.